Consiglio comunale pre-elettorale è quello che si è riunito oggi nella Sala dei Baroni a Napoli, al centro del dibattito accanto ai temi cruciali della mobilità cittadina e dei servizi, anche la preoccupazione espressa da più parti sul destino del patto per Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi non ha dubbi, l'accordo siglato con il premier Draghi non può essere messo in discussione da nessuno. Non ho mai immaginato che un governo di qualsiasi orientamento politico potesse mettere in discussione una norma che è servita per aiutare tante città metropolitane, non solo Napoli e sicuramente noi dobbiamo anzi pensare come migliorare il patto per Napoli sia in termini normativi che di eventuali altre risorse finanziarie. Su questo stiamo facendo delle riflessioni, quindi dobbiamo parlare del futuro e non del passato. Alla vigilia del voto il sindaco del patto giallorosso torna anche sulla prospettiva politica del centro-sinistra allargato. Non ho nessun dubbio che la nostra maggioranza resterà compatta, anzi io sono convinto che tutte le discussioni politiche che ci saranno in Italia a partire dal giorno dopo le elezioni partiranno proprio dall'esperienza di Napoli. Perché se l'esperienza di Napoli fosse stata replicata a livello nazionale, forse oggi vedremmo un altro film. In apertura della seduta il Consiglio Comunale di Napoli ha ricordato a un anno dalla scomparsa l'editore Tullio Pironti. Il primo cittadino ha definito Pironti un amico della città, che ha lottato da grande pugile quale era stato per continuare l'antica tradizione dei librai editori. Da Manfredi è stato espresso l'auspicio che il suo esempio venga seguito anche da tutti coloro che amano leggere.